Sospeso c'è posta per te 2018, ecco perché non va in onda il 10 febbraio. Anticipazioni c'è posta per te 2018, salta la quinta puntata di sabato 10 febbraio, ecco perché. Brutta notizia per tutti i fan di c'è posta per te 2018, la trasmissione del sabato sera di Canale 5 condotta da Maria De Filippi, che questa settimana risulta sospesa dal palinsesto della rete Ammiraglia Mediaset. Ebbene sì, possiamo svelarvi che questo sabato 10 febbraio il people show dei sentimenti condotto dalla De Filippi non sarà trasmesso su Canale 5 e in molti si stanno chiedendo per quale motivo la trasmissione sia stata cancellata dal palinsesto della rete Ammiraglia e soprattutto quando avremo modo di rivederla di nuovo in onda in televisione. Perché c'è posta per te te è sospeso dal palinsesto del 10 febbraio? Le anticipazioni ufficiali rivelano che sabato 10 febbraio c'è posta per te 2018 non andrà in onda su Canale 5 per evitare lo scontro diretto con la finalissima del festival di San Uremo 2018 condotto da Claudio Baglioni, Michelle Unzicher e Pierfrancesco Fabino. Una decisione importante, chi in questo modo eviterà alla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi di sfidarsi con la temutissima serata finale della Kermesse musicale, che come da tradizione ottiene grandi risultati d'ascolto durante l'ultima serata. E così anche quest'anno Mediaset alza bandiera bianca di fronte alla finalissima del festival di San Uremo 2018, un po' come è già successo per tutta la settimana. Chi non ha seguito il festival su Rai 1, infatti, ha avuto modo di vedere che su Canale 5 sono andati in onda solo film in replica che hanno preso il posto di ficzione e programmi, che normalmente vediamo in onda sulla rete Ammiraglia del Biscione. La scelta Mediaset su C'è posta per te. Per esempio venerdì sera è saltato l'appuntamento con la Ficzione Immaturi la serie con protagonisti Luca e Paolo, Ricchi Memphis e Sabrina Impacciatore, che tra l'altro è una delle conduttrici del dopo-festival di quest'anno, e sabato sera salterà l'appuntamento con C'è posta per te. Il Peop le show della De Filippi, quindi, risulta sospeso per una settimana dalla programmazione di Canale 5 ma i fan possono stare tranquilli, perché la trasmissione tornerà in onda regolarmente a partire dalla prossima settimana. Da sabato 17 febbraio, infatti, Maria De Filippi riaprirà di nuovo lo studio della sua fortunatissima trasmissione, che anche quest'anno sta ottenendo risultati d'ascolto a dir poco eccezionali con una media di oltre 5 milioni e mezzo a settimana e uno share, che per poco non arriva a toccare la soglia del 30%. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS